L'invito ai trevigiani è adottare delle misure di autodifesa e anche di controllo del territorio, di vigilare anche su delle banalità come quella della griglia che si tappa, oppure di informare le autorità di eventuali anomalie che possono presentarsi sul governo del territorio. Giuseppe Elomoro, 58 anni, calabrese d'origine, ma veneto d'adozione, arrivato da Ravenna, ha già sperimentato da neocomandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso i primi episodi di allagamenti dovuti a piogge intense. È aumentata la frequenza rispetto al passato, ma il fenomeno è conosciuto. Noi come Vigili del Fuoco ci dobbiamo preparare ad affrontare queste problematiche, ma anche il singolo cittadino deve rendersi conto che fa parte del gruppo di protezione civile, che è un gruppo diffuso sul territorio. La prevenzione è il primo obiettivo da perseguire, dice, da qui l'appello ai cittadini, ma non solo a loro, anche al mondo produttivo. Spesso sono i piccoli gesti e le piccole manutenzioni quotidiane a evitare gravi conseguenze, come ad esempio l'incendio di una grossa fabbrica, che priva, dice, la collettività di una sua componente importante, vanificando gli sforzi di chi l'ha fondata e fatta crescere. Quanto alla presenza dei Vigili del Fuoco sul territorio, gli organici andrebbero rimpinguati, ma, dice, i numeri sono comunque sopra la media nazionale. Il personale arriva a 370 unità, sedi per lo più adeguate, anche se qualcosa si può migliorare. Diciamo che il livello delle sedi di servizio della provincia di Treviso è altissimo. Bisognerebbe un pochino livellare verso l'alto sia la sede dell'aeroporto e sia la zona di Motta e di Oderzo. Comunque le altre sedi sono di una estrema dignità, offrono dignità ai nostri operatori.